Va benissimo! Forse avevano già giocato due qualche torneo fa? Boh, può dar sì, anche se hanno fatto... C'è Shuan, credo sia il terzo torneo che fa. Quest'anno dici? Sì. Secondo o terzo? Sì, sì, direi di sì. Ha fatto pochissimi perché... L'ultimo era qualche mese fa. Quello che ha vinto, mi pare. Sì, quello che è vecchissimo, sì. Ma c'era anche uno prima. C'era Yolt che sono incontrati... Vero, vero. Dove ha vinto Yolt. Sì, quello è stato bello. Giusto, giusto, giusto. Ok, quindi c'è un Pokémon 2, quindi metto che va bene. Ci sono le piattaforme, ci sono. Un po' di libertà per Robin c'è. Sì, sì. Comunque è più grande di... Allora, Pokémon 2 secondo me è un ottimo pick per Robin perché è più grande di Small Battlefield e le Blossoms sono più vicine all'Edge! Non ho mai visto Sean Meteorato. Non ho mai visto Sean Meteorato. Nessuno se l'aspettava, nessuno se l'aspettava. Neanche Sean. Neanche Sean. Però sicuramente in... Ma che non si dica, riuscirà a recuperare... Però è bella interazione. Prima che c'era... Come si chiama? Thunder caricato. Che l'ha battuto, l'ha fermato, la palla. Neutral beat in Me Brawler. Sì. Questa è una cosa interessante. Non so se l'aspettava conoscere davvero. Eccolo... Comincia a rubare... Sì. Aiaiaiai. La vita. Aiaiaiai. Di Backthrow. And off stage. Carica un po' di Ark Thunder. Eccolo in Fire. A 100 stage. Kill. Oh eh. Fiii... No. Non era percentuale altro combo. Eh... Eh... Se avesse sposato un po' lo stick... Forse. Ok ok. A lui non interessa essere in vantaggio. Lui lo recupera in vantaggio. Non gli interessa. Per lui la percentuale è relativa. Eh... Dovrebbe andare. No. Fai. Down Row. Dark Fire. Adesso lo prende però. Vabbè. Adesso ma... Si fanno al corner niente. Non è più. Aiaiai. Ok ok. No no no. Ok. Si vede quando uno non ha molta esperienza con Robin. Si vede se prova a fare scudo su Dark Fire. Questo è il mio. Detector. Sai. Poca esperienza con Robin in generale è bruttissimo giocare. Perché è uno di quei personaggi diciamo gimmick. Cioè i quei personaggi per cui... Però... O lo conosci in matchup o prendi il cazzo fortissimo. Un matchup checkup. Come si può dire. Esatto. Quindi se provi sull'ascuro su qualche proiettile... Don't. Perché è tutto più. Cosa? Ah la spada. La spada. La spada. E' già. E' qua. E' qua. Mi partiamo nei mille proiettili che c'è Robin. C'è pure la spada. Il libro. Due. Due Fairs due portano la stock via del... Del... Non più. Però... Il progetto è alto. Sì. Il progetto è alto. Sì. Il progetto è alto. Il progetto è alto. E' finito. No, va. E' niente. Solo la grab. Continua col nair. Non riesce a bruciare. Ah, io è fine. No. Perché non era... Non era Swisspot? No. Perché non era proprio... Come si chiama? Leavingsword? No, era Leavingsword. Ah, il libro. E' vivo? Il libro. No. Perché non mi sembrava elettrica. Non so parlare. Abbiamo 1-0. Però dai. Vediamo. 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 Se si... Se si potrà adattare Osamu. O se Shuan si adattara ancora di più. Si spera di no per Osamu. Che quando... Che cosa banderà di bello? No, no, no. Cosa fai? Che ho fatto? Ho visto l'icona sopra Richter. No. Cosa fai? Cosa? Che fanno? Che fanno? Che fanno? Che fanno? Che fanno? Che fanno? Problemi tecnici. Forse... Non ce n'è da sapere. O anche abisine. Quindi io me ne faccio. Continuo a mangiare queste paladine. Sì. Non hai ancora pranzato? Ho pure pranzato. Ok, ok. Ovviamente è off-home. Eh sì? No, è Robin. No, è Robin. C'ho creduto. Ovviamente è Robin. Master Robin. Comunque sì, c'è semplicemente un offerto dove... Triplatta questa volta. Sì, vabbè. Non è riuscito a fare una... Allora, se non sbaglio, comunque è molto buono i batteridi anche per Robin. Quindi non gli interessa. Casual non interessa molto. Ok. Adesso, sì. Rispetto al game scorso, già abbiamo visto due side B. Quindi sembra fosse questo. Ok. E ha anche smesso di scudare. Aia, è riuscito a schivarsi con la brutta situazione. Se continuano a fargli questi lasci d'accio scudo, continuerà a grabbarlo. Sì. Quindi verrà pulito. Tutti rosso è... No, no. Aveva la spada. Posso dire che mi era... A fare a field. E l'hai presa. Aia? No. Non era... Voleva... Voleva fare a field. Però non ci riuscìva. Sto facendo cose dell'esame. No. Aia. E' esploso. Sembra centro stage. L'unica posizione in cui uccide Master Robin. Non sei mai sicuro. Aia, aia. Scurato. Non c'erano niente. Lo sto tenendo stage, però. No! Peccato, però... Non si aspettava. Ovviamente non si aspettava che sbagliasse un'opzione del genere. Eeeeee... No, non riesci a recuperare. E riesci a peccare, soprattutto. E riportarsi il vantaggio. E' ancora vivo. Perché mi brawler o fa la sua combina o fa back air. Esatto. C'ha comunque poca roba per chillare il brawler. Eh si vede. 160. Non vuole morire. Dai! No! Vabbè, lo liscia! Proprio la suola è andata sul mantello. L'artbox shifting dell'animazione. No! L'Antonor non ha kill throw. Non so se Dauntro possa killare a puntare altissima. Ok, però la pasta. La zecca. Però no, la Dauntro mi sa altissima. Purtroppo. Beh, purtroppo. Purtroppo. Sopiglia abbastanza roba per fare cose. Hai anche ragione. Aia! E' morto! E' morto! Si che è morto! Non è morto! Non è morto! Ne abuserà! Ne abuserà! Ne abuserà un sacco! Aia! Uh! Riesce a scrivere! Ecco! No! Lo voleva! Lo voleva! Lo insegue! Bello! Sta avendo molte difficoltà a usare la morale. Ok! Questo kill ovviamente! Questa volta non ho detto niente! No! Sono innocente! Bravo! Una volta salta via! Bravo! E comunque c'è il match up mi brawler Robin e bruttarello per mi brawler! Cioè devi sapere entrare! Si si però hai come consolazione che entri tre volte in teoria! Entri tre volte lo stock lo fai! Esatto! Non hai bisogno! Ci hanno insegnato i top brawler che non hai bisogno di grandi combo! Ti basta! Oh! Bello! Voleva fare full of the shield! Non ha niente che sappia purtroppo! Non so se ha più di prende non credo! Hai è morto! No! No! Però ecco! Bruta situazione! No! L'uccide così! L'uccide così! Perché se giustamente la vita del fast faller è cadere giù! Ora agisci in tempo! Ora agisci in tempo! Clicchi! App B! Proprio! Affinché non riesci a recuperare! Da un vero mesher! Ok! Sta andando... Direi bene! Eh si comunque non... Cioè! Sta comunque avendo molte difficoltà lo Samu! Però... Se riuscisse... Cioè! Se... Riuscisse... A... Non entrare in quelle situazioni tipo... Off stage! Non riesce a recuperare! Oppure... Boh! Si senti l'opinione del matematico! Dice la prima... Primo game! Ok! Non è riuscito a fare nessuna combo trapper! E aveva due stock! Nel secondo game l'ha fatta una! E aveva una stock! Alla fine a Schwan! Adesso se una zica due! Ha vinto! Beh! Matematica! Se la matematica non è un insinione! Questo game è per lo Samu! Se riuscisse a furgo a entrare due volte! Anciché una! Ecco! Ci riprova all'inizio! Come lo scorso game! Visto che funzionava! Oh! Con la bronze! Non gli interessa se non è caricata! Lui continua ad attaccare! Così! Ci riprova ancora? Si! Si! Forse sta vedendo che sta scelando un po' più spesso Schwan! Quindi sta provando con i sidekick! Però rispetto al game scorso sta scelando meno! Questo lo sta stabilizzando! E comunque Schwan sta adattarsi! C'è anche in game è una sua... Si! Ci ha insegnato qualcosa! Oh! Peccato! Ce l'aveva! Lo voleva! Però non riesce a fare evoluzionare! Ah no! L'ha rifatto! Ah! Però stavolta almeno non salta sotto la mia shield! Aia! Aia! No! Niente! Però continua a fare... Prova a fare quel landing! Oh! Si! Le versa di nuovo! Continua a cambiarsi di posizione a legge! Da un assalto! Perdi la levin! Oh! Eeeh! Niente! La spada anche da lontano! Oh! No! Ok! Pensavo... Un successo! Oh! Bella questa! Bella! App per... Passfall sulla piattaforma! App di subito! Ed è ovviamente true! Si! Ci ha fatto vedere che lui è piattaforma e ne sa bene! Utilizzare! Va di combo! Eccolo qua! Comincia! Eccolo qua! Fernair! Fernair! Numero uno! Oh! Vabbè! Questa è common grab! In continuazione! Una cosa brutta è che se sta sul metaforme ovviamente il dollar! Schwan fiscerà sempre per zombie! Perché alla fine è un'ottima opzione perché su sto gioco i platforme sono pessime! Quindi si ha difficoltà a scendere! Sì! Fa bene! Adesso sì! In vantaggio Schwan quindi... Divertini! Comunque se lo sto pari! Cosa che... Se non sbaglio lo scorso game non era così! Sì! Fino all'ultimo no! Non era così! Quindi... Oh! Vediamo! Riesce a ci spoccare con la palla! Lo prende! Lo prende col down air! Vente recupera! Quando si torna... Vaglia! Ho provato! E' enorme col down smash! E' enorme col down smash! Per fortuna era abbastanza lontano! Quindi all'improvviso c'è Osamu in vantaggio! Vediamo come Schwan riuscirà a recuperare! Se riuscirà a recuperare! Continua a stare in aria Schwan! Cosa che... Lo manda parecchi di stratage! Soprattutto contro i new brawler! Oh! Non è morto! No, ancora non è morto! Però un'altra combo del genere è sicuramente morta! Però lo stock ce n'è! Non ha più rage! Cosa che... Poteva... Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Ecco la properia! Due non ho sperato! Si si alla fine... Cioè se vuole la... Che ci torniamo... Rimani calmo! Rimani calmo! Si deve sicuramente... Rimani calmo! Perché il vantaggio ce l'ha! Non... Non dovrebbe... Entrare così spesso! Però vediamo! Ah che tanto! Fai un po' di safe area! Però perché vedi... Sta entrando molto spesso! No no! Non la fai! Si vuole la kill! Sta giocando la kill! Perché... No 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 dai! Ok! Vantaggio tornato! E' il tuo vantaggio tornato su anno! E' vivo! Non è detrottima parola... Perché comunque mi brawler... Mi brawler vuol dire... Una down throw... Fatta bene... Una pb... Ed è morto! Però... Deve appunto prendere la grab... E contro Robin... E contro... Il Robin di Swan... Non è così facile! Per niente signore! Perché come vedi... Poteva grabbarlo però... Aveva spasso troppo bene quel bear... Allora stai vediamo... Continua così con i proiettili... Swan sa che non deve essere grabbato... Swan lo sa! Continua con i proiettili... Sa che invece che... Cosa è questa? Prova le opzioni! Ora staccami l'opzione! No no no! Non killla! Non killla! Non killla ancora! Però... E' disperato! E' finita! Niente! Peccato! Peccato! Ozan ci ha fatto credere... Era a una grab... Da fare andare avanti... E la stava cercando... E probabilmente... Proprio per questo video qua... Cioè... Per questo video qua... Ha sbagliato il net game...